Da Napoli stavamo facendo ginnastica col fucile al campo sportivo, stavo proprio nella caserma principale di Piemonte, c'era il campo sportivo davanti e ci stavamo a fare ginnastica, se non che adonata in caserma, adonata in caserma, dice è uscita una nuova arma, chi è a fare volontario, si tratta di pareo visti. Ricordate bene, disse quell'ufficiale che parlate, si tratta di offrire la vita alla patria, pensavamo madonna che sarà, i patricopisti non li conoscevamo noi, invece loro già avevano le divisioni e le divisioni, comunque un parecchio alziamo la mano, andate alla visita, questa è la cosa più bella che mi è piaciuta, quando si fece tutte le prove, il giro con la chiave, il giro con le cose, tutte le visite fisiche, tutto a posto, il dottore mi diappa un braccio e mi dice, ma lo voglio, perché era piccoletto, lo voglio proprio fare al parecadutista, ma allora che sono venuto a fare, fatto sta partiamo da Napoli, partiamo da Napoli e andiamo a Tarquinia, a Tarquinia arrivò il treno, stavano scaricando gli apparecchi, gli aerorifornitori come sa che stavano provando i parecaduti, fatto sta che ci stavano parecchi feriti, parecchia veniva una candela, parecchi, più di qualche d'uno moriva e allora stavano preparando queste cose, ci siamo comportati, non voglio dire bene perché gli altri erano tutti migliori di me e volentieri abbiamo fatto il primo lancio, il secondo lancio e tutta la bella cosa, il primo lancio è stato ben fatto, non avevamo nessuno, qualche disgrazia, qualche disgrazia, qualche gamba rotta, qualche spalla, ancora non eravamo manco orari, c'è Fale Capriola, fa tutto quanto.